Vengo da Ostuni, la città bianca, il mio paese e vado a Villanova d'Aste. C'è chi torna dalle vacanze, chi parte proprio in questo fine settimana, chi va in montagna, chi al mare, gli italiani si godono le ferie così. Nonostante il grande flusso di persone in movimento, questo sabato il tratto marchigiano dell'autostrada 14 non ha presentato criticità. Per questa giornata era previsto il bollino giallo, per la giornata di domenica è previsto bollino giallo solo nella mattinata e rosso nel pomeriggio e nella sera. Quest'ultimo indica possibili rallentamenti e traffico intenso. Al mare, a un paese vicino a Rimini. Siamo stati a un matrimonio, noi viviamo a Firenze, ma io sono di Civitanova, siamo venuti a un matrimonio, stiamo tornando a Firenze. Vengo dall'Abruzzo e sto tornando a Dimola. Siamo diretti a, dove siamo diretti? Non mi ricordo il paese, a Gatteo a mare, Gatteo a mare, vicino Rimini. Da Pineto, in Abruzzo, a Bologna. Ce ne torniamo a casa. Stiamo tornando a casa dalle vacanze dalla Puglia e per adesso il viaggio è stato abbastanza tranquillo, non c'è molto traffico, però insomma torniamo a Brescia. Molti hanno scelto di mettersi in viaggio questo sabato grazie alle temperature lievemente più basse rispetto al giorno precedente. Se la situazione autostradale è stata tranquilla nelle Marche, non si può dire lo stesso di altre zone d'Italia, come il tratto del Brennero, dove la giornata è stata da bollino nero. Allora, noi veniamo da un paese vicino a Chieti, dall'Abruzzo quindi, siamo diretti in Trentino, dove passeremo una settimana, si spera, al fresco delle montagne. Quindi finora il traffico è stato scorrevole, senza problemi, stiamo facendo una sosta per far mangiare il bimbo. Noi veniamo da Bucchianico e andiamo in Trentino. Traffico pochino, speriamo di non bloccarci più su. Rispetto a ieri sì, ieri si moriva, oggi leggermente meglio, quindi bene, bene così, si torna al lavoro. Almeno per dove eravamo noi c'erano i 40 gradi, quindi direi proprio di sì, che adesso sia un po' più calma la situazione. Rispetto a ieri si sta molto meglio anche in Abruzzo. La situazione di traffico per il momento è scorrevole, pensavo molto più traffico invece si scorre abbastanza. Grazie.